Non hai follia, c'è una follia totale. Adesso ci sono 4 milioni di persone all'anno e se siete ancora, per quel poco potete darmi retta, lascialo, sì, lascialo, tu ti darmi retta subito. Ma per esempio andate a ottobre, cioè andate a ottobre, a marzo, a aprile, adesso c'è troppo casino, cioè tutti sti foresti che rompono i coglioni, come si dice. Si può dire, è una terra davvero straordinaria, una terra piena di varietà, di cose molto molto diverse. Io la cucina la tiravo fuori, l'ho tirata fuori come spunto perché non è solo una cucina regionale, proprio ci sono le singole tavole imbandite.